Allora dovete sapere che questa è una scena che nei suoi anni d'accademia Paneratti ha vissuto e allora... Dunque la scena parte con noi della squadra nazionale o comunque dell'accademia che arriviamo a tavola, Marco che è seduto al tavolo ovviamente dei tecnici e Jessica che puntualmente si lamentava appunto del disordine, delle borse in mezzo e quindi iniziava dicendo ragazzi ma ascoltate una cosa ma non è che mi volete far cascare, vero? Mazzieri per favore di qualcosa se no non ti porto il caffè. Veramente volevo il dolcino Jessica. Il dolcino ti ho dato dopo il caffè. Poi abbiamo una... il repertorio prosegue. Finalmente sono potuto venire anch'io qua a Galà dei Diamanti, sono Alex Liddi, vorrei ringraziare tutti perché è un'emozione sempre più grande e devo ringraziare il manager della nazionale, tutti i ragazzi e tutta la mia famiglia. Maestri? Quanti è che non lo senti maestri? Maestri è un po' che non lo sento perché era in Giappone però è venuto anche lui. Di ragazzi buongiorno a tutti, vorrei ringraziare tutte le persone che sono qua con me e di cosa c'è da aggiungere. Niente, è stata una bella stagione anche in Giappone, sempre nuova e di grazie a tutti. Mario? Mario, dove è Mario? Mario ragazzi vi dovete sbrigare perché se no si perde il pulmino, poi c'è da organizzare tutto e finisce tutto il pacchetto di sigarette se no. Noi veramente queste sono gioie importanti, torniamo seri. Vabbè l'altra imitazione è quando deciderai di non giocare più in nazionale. L'altra imitazione che non vuoi fare è quando smetterai di giocare in nazionale. Ecco, ok, benissimo. Grazie.